La Juventus ha ripreso i contatti per firmare con il difensore polacco Jakub Kiwior. Giuntoli, dopo aver perso la pista di Todibo, ha stilato una lista con tre difensori, e almeno uno di loro dovrebbe firmare con la Juve. I difensori sono Josip Sutalo, dell'Ajax, Clement Lenglet, del Barcellona, e Jakub Kiwior, dell'Arsenal. Jakub Kiwior sembra essere la priorità, poiché Motta lo conosce molto bene, avendo lavorato insieme allo Spezia. L'Arsenal ha ingaggiato Calafiori in questa finestra di mercato e dovrebbe vendere Kiwior, poiché il polacco difficilmente sarà utilizzato nel club. Kiwior, quando giocava allo Spezia, era un ottimo difensore. Credo che ciò di cui ha bisogno è un club che possa garantirgli tempo di gioco. Tra Kiwior, Josip Sutalo e Clement Lenglet, chi compreresti?